il documentario la salamandra si riproduce tre volte al buongiorno e benvenuto alla prima puntata di orizzonti della scienza perché separato si scrive tutto insieme quando tutto insieme si scrive separato è vero è perché staccato si scrive tutto attaccato è tutto attaccato si scrive staccato hai ragione perché i virus non hanno sesso ma ci fottono lo stesso è vero e perché i negozi aperti 24 ore su 24 terreno a saracinesc è vero a questi ed altri interrogativi cercheremo di dare una risposta in questi giorni buongiorno a tutti luca sei un genio luca continua questa mi piace molto